il rispetto dell'ambiente, la qualità dei nostri centri abitati e far ripartire il settore edilizio in chiave sostenibile. In quest'ottica è significativa anche l'attenzione al patrimonio edilizio esistente non utilizzato, spitto o abbandonato, per il quale è previsto un censimento. Anche questo punto è stato introdotto nella discussione in Commissione. Per tutte queste ragioni ritengo che sbaglino i colleghi che oggi vogliono tirarsi indietro e ci chiedono di bloccare questa legge, perché questa legge è un importante passo avanti e va nella giusta direzione. Questa legge, che può migliorare ulteriormente con il passaggio in Aula, va approvata il prima possibile. Grazie Presidente. Grazie onorevole tentori. Non vi sono altri iscritti a parlare, pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali. Tranne il relatore Fiorio, tutti gli altri relatori hanno finito i tempi. Per la verità, il relatore Fiorio non mi pare che intenda replicare, così la rappresentante del Governo che ha comunicato che non intende replicare, avverto che a norma dell'articolo 40,1 del regolamento, prima dell'avvio della discussione, è stata presentata la questione pregiudiziale di costituzionalità, Brunetta ed altri, numero 1, che sarà esaminata e posta in votazione prima di passare all'esame degli articoli del provvedimento. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta. Come già precedentemente preannunciato, per le vie brevi ai rappresentanti dei gruppi comunico che sarà iscritta all'ordine del giorno della seduta di domani e l'assegnazione in sede legislativa delle seguenti proposte di legge, delle quali la sottoindicata Commissione, cui erano state assegnate in sede referente, ha chiesto con le prescritte condizioni il trasferimento alla sede legislativa, che proporò la Camera a norma del comma 6 dell'articolo 92 del regolamento. Alla settima Commissione Cultura, Russo ed altri, modifica la legge 20 febbraio 2006, numero 77, concernenti la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale, 2497. La Commissione ha elaborato un test unificato. Do quindi lettura dell'ordine del giorno della seduta di mercoledì 27 aprile 2016, ore 10 con votazione non prima delle ore 13, esame del documento di Economia e Finanze 2016, assegnazione a Commissione in sede legislativa delle proposte di legge 2497 e 3333, seguito della discussione del disegno di legge di Grazie per la visione.